Siamo in coda agli uffizi, speriamo che duri meno di quattro ore. Ecco Elise che fa la foto alla coda. Siamo molto addormentate, ma soprattutto incazzate nere, ma molto nere, 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 nere. Non si vede la fine e non si vede l'inizio. No, non ci facciamo una foto. No, non ci facciamo un video, eh? Sì, facciamo un video.